Buongiorno a tutti ragazzi e amici del canale di YouTube e a tutti appassionati di campani come me. Oggi, per vedere questa lampada di quest'area, la caccia di Sant'Antonio, abbiamo un concerto di tre campani che ora potrà ascoltare la quadresima della vincita, questo là c'è il campanone, questa è una tamigiana. Adesso ascoltiamo la distesa della terza campana, quindi a presto e a presto a tutti. Ciao! Non ho mai preso il volume, direi. No, l'ho preso un po' come lo fare adesso. Hai visto le chiavi qui? C'è una campana della quaresima. Non ho preso tutto il senario. Non ho preso il tempo, non ho preso tutto il tempo. Non ho preso tutto il tempo, non ho preso tutto il tempo. Sono quelle che avevo quando lavoravo nel 1906. Non ho preso tutto il tempo. Non ho preso tutto il tempo. Non ho preso tutto il tempo. Perché se andano lì con le fibre a me mi bruciano al schermo. Posso portare soltanto l'influsione. Posso portare soltanto l'influsione. Ma dipende proprio. Mi sono consigliato i plastici. Non le troverò. Ho guardato. Eddo, dove sei? Ho guardato. Ho guardato. Ho guardato. Grazie a tutti.